Attenzione ai saltatori in area L'ha messa dentro con un tocco morbido a scavalcare il portiere Perfetta l'esecuzione qui Stefano Capolavoro Da lì può andare col cross Prova in porta Giù il cappello di fronte a questa super giocata Ha impattato la palla alla perfezione trovando un gol Capolavoro Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara